Senta, abbiamo accennato ieri, sempre parlando di politica, maggioranza eccetera, allora ci sarebbe un caso prestigiacomo all'interno della maggioranza, infatti lei ieri l'ha liquidata nella sua pochezza con quattro parole, ma oggi per esempio il giornale approfondisce il caso perché dice la ministra è inadeguata, innamorata di De Magistris. Non lo so, però se lei prende... che gli avessero attribuito, diceva è una cosa irriguardosa, era una bellissima attribuzione di una bella ragazza, se gli fosse mai stata attribuita indipendentemente dal fatto che la cosa fosse vera o meno. Se dicono di lei che va a letto con Eva Schiffer, lei dice mi compiaccio, che schifo di insinuazione, dice non è vero, ma me ne compiaccio, questo qui è talmente pirla che è capace solo di... Poi si innamora di De Magistris che è un altro che andrebbe arrestato sulla base dei soldi che ha fatto spendere allo Stato per le sue inchieste fasulle, a chi lì dice sempre vuole andare a vedere cosa è costato allo Stato, altro che gli sprechi dei parlamentari. Questo qui è costato allo Stato almeno 10 milioni di euro tra lui e Genchi di intercettazioni grottesche, grottesche. Lo spreco è quello, si comincia a dire. Allora a questo punto, innamorata o innamorata, se lei va a prendere un giornale di un anno e mezzo fa vede un mio articolo contro la presse di Giacomo, che naturalmente lei si è messa a pianicolare dicendo la vittoria perché mi attacchi così ed era nel momento in cui lei è diventata la principale padrina delle paleoliche e di altre forme di energia rinnovabile. A questo punto non ho mai avuto dubbi sul fatto che sia una bella ragazza, delicata e sensibile, ma politicamente è un'altra delle cose che Berlusconi si è inventato per chi era distratto. Sì, ma questo fatto che poi una volta si e l'altra pure si schiera con l'opposizione in maniera anche molto palese, peraltro temi molto importanti, vedi quello dell'altro giorno. Perché diciamo che in astratto ha ragione, mentre essa va indicata dal punto di vista politico, aspetti che c'è una Marilyn Monroe. Sì, bella, sì. Ecco qua. Allora, carina questa maniera, un bianco e nero. Quella là, Marilyn Monroe, ha fatto 500 mila euro per il filmato porno di Marilyn, 6 minuti in bianco e nero. Non l'hai vista che meraviglia che è? Quindi in sostanza è probabile che in astratto uno, chiunque di noi, De Magistris Someno, dica che è uno scandalo che Napoli sia sporca. Bisogna pulirla. Quindi chiunque cerchi una soluzione, anche politicamente sbagliata, ma diciamo tecnicamente corretta, va guardato come una persona di buona volontà. Quindi è probabile che lei abbia valutato, lo dico perché non posso immaginare che in lei agisca una stupidità diciamo basica, agisce una stupidità politica determinata da una sorta di buonsenso pratico. E allora, evidentemente, sono queste le ragioni. Ma questo non toglie che in linea generale un ministro dell'ambiente dovrebbe avere un'autorevolezza e una forza che lei non ha. Tutto qui, quindi io non posso fare critiche a lei, mi pare troppo piccola per fare delle critiche. Poi si mette il pegnucolare e dice ho sentito Radio Yes, che mi hai criticato anche tu. Non è il caso. Cioè che uno non deve stare o blandire o porsi al nemico. Deve dire, chiunque ci sia, Napoli, cioè amicus plato o nemicus de magistris, c'è de magis amica neapolis. Cioè la città di Napoli è quella. Quindi da questo punto di vista potrebbe perfino avere una larvata ragione, Presti Giacomo, nell'aver tentato una soluzione che poi non è stata ratificata dal Parlamento. Ma non perché si è messa con l'opposizione. Però non ha lei l'autorità. La forza, la forza. Perché manca. Certamente. Uno dovrebbe portare tutti sulle posizioni del IDV, se fossero giuste. Per cui questa cosa della Lega di fare... Cioè la Lega cosa sostiene? Che si puliscano loro perché devono portare la loro sporcizia a nord. Che peraltro lo stanno già facendo. È partita l'altra volta una cosa molto bella. Ho visto i giovani che si sono messi per le strade a pulire a fare... Ma perché mi sembra che appunto di fronte a cose come queste la politica non c'è più. Di fronte all'igiene, di fronte all'ambiente, di fronte a Napoli, la politica non c'è più. Se poi gli amministratori sono dei miserabili, quello è un altro discorso. Certo. Professore, il nostro moto nei suoi confronti è Naut Cesar Naut Neal. Evviva lei, professore. Evviva il professore Vittorio Sgarbi. Un abbraccio forte. A lunedì. Grazie. Buon weekend.